domenica stiamo lavorando insieme a Gabriele a guardare che le batterie che ho registrato possano essere pulibili, lavorabili, editabili in maniera che il Discover Master suoni come un batterista vero poi c'è il ritornello, quindi cambierà il passaggio finale del ritornello sì però il resto è uguale, il groove è uguale, l'orismo è uguale ciao sono iFIA Recording Studios ad Alfonsine in provincia di Ravenna, Italia e ho appena finito di registrare le batterie per il gruppo Over Master Grazie a tutti